Voglio, diciamo così, celebrare la testimonianza di una sollecitudine che si esprime nella rivista del Clero Italiano, che è di proprietà dell'Istituto Tognolo, che è una rivista dell'Università Cattolica, inaugura cent'anni fa questa rivista del Clero, dunque vuol dire che l'Accademia degli Cattolici Italiani, i luoghi della ricerca, si prende cura anche della formazione del Clero Italiano e dunque si dice con questa rivista che ha la sua forma configurata nel tempo e anche rinnovata in occasione proprio del centenario, ecco con questa manifestazione editoriale si dice che la cultura accademica, che i ricercatori, gli studiosi sentono il desiderio e la responsabilità di dialogare con il Clero Italiano, ecco adesso la rivista ha naturalmente assunto un target più ampio e naturalmente soprattutto gli interessi che gli articoli esprimono non è riservato al Clero, però io vorrei insistere su questa attenzione che l'Università Cattolica attraverso questa rivista, oltre che attraverso altre iniziative, esprime per il Clero e dunque il nostro Clero è un Clero generoso e anche un Clero inquieto. Il Clero Italiano, soprattutto dal mio punto di vista, quindi da quello della Diocesi di Milano e delle Diocesi Lombarde, è un Clero essenziale per la Chiesa e anche qualche volta ingombrante, come appunto una presenza che rischia di essere più un elemento che intralcia un po' il cammino, almeno questo spesso lo sento dire dai laici, un Clero essenziale e ingombrante, un Clero che cerca visioni, che domanda risposte, che chiede rassicurazioni e insieme che esita a entusiasmarsi per quelle risposte o indicazioni che vengono dalle proposte pastorali, dagli aspetti di direzioni, di direttivi, di proposte riorganizzative. Dunque a me sembra che il Clero ambrosiano, il Clero lombardo, il Clero italiano è un Clero che vive una particolare forma di transizione e quindi recepisce tutta l'inquietudine di questi passaggi, inevitabile e anche benefica. E la rivista del Clero dunque dice che questa Accademia, che è l'Università Cattolica, è sollecita per questo. E quindi è questo per cui io ringrazio. Ringrazio perché appunto la cura per i preti, i diaconi che compongono il Clero è una delle prime, diciamo, attenzioni del Vescovo. E il fatto che ci sia questo contributo mi sembra un motivo di gratitudine. Nello stesso tempo dico che questa attenzione che oggi la formazione permanente esprime per la rivista dice anche questa specie forse di nostalgia o di rammarico che dice ecco il rapporto tra la Chiesa italiana, il Clero italiano e l'Università Cattolica è un rapporto che si è fatto un po' come un fatto di parallelismi, di percorsi indipendenti come se fossero mondi estranei. Invece io ringrazio la formazione permanente del Clero che ha promosso questo perché esprime una delle mie, diciamo, attenzioni privilegiate nel servizio che devo rendere come Presidente del Tognolo cioè quello di dire l'Università Cattolica è l'Università dei Cattolici italiani, è l'Università che ha servizio della presenza della Chiesa in Italia e anche nel mondo. Ecco l'Università Cattolica ha celebrato il suo centenario e ha potuto raccontare dei grandi successi ottenuti sia come numero di iscritti sia come prestigio a livello delle singole discipline e quindi io mi congratulo e sono contento di questo, ma questo tema del rapporto tra l'Università e la Chiesa mi pare che sia un tema che meriti di essere approfondito da entrambe le parti cioè l'Università deve vivere questo senso di appartenenza alla Chiesa in modo sostanziale e la Chiesa italiana deve sentirsi arricchita dalla presenza dell'Università non soltanto come un serbatoio di relatori per i suoi conveni o per i suoi studi ma proprio come una normale condivisione di pensieri, di domande, di ricerche e di prospettive quindi io così ringrazio la rivista del clero, ringrazio la formazione permanente e questo tema che oggi è stato scelto per celebrare questo evento e riconoscere il contributo che la rivista del clero dà ecco questo tema della preghiera o meglio del riprendere spirito che è un titolo molto allusivo e che ci introduce in una dimensione irrinunciabile della vita cristiana e del ministero del clero in particolare ecco questo è un tema che io sento molto importante non solo come pratica della preghiera ma come comprensione, come approfondimento di quella introdursi nel mistero di Dio che lo spirito di Dio rende possibile che la comunione con Gesù rende attivo e presente nella concretezza e che il riferimento al padre compie quindi il tema della preghiera che io ho sottolineato quest'anno in modo particolare il tema della liturgia come luogo della comunione che diventa preghiera però sento questo tema come decisivo e attribuisco a una pratica della preghiera sapiente e costante attribuisco il ruolo determinante per lo star bene del clero in questa storia, in questa situazione quel vedere con gli occhi che lo spirito ci educa quel amare con quell'amore con cui lo spirito ci configura a Cristo ecco, questo lo sento particolarmente necessario per tutti noi quindi ringrazio chi ha organizzato l'incontro quindi la formazione permanente del clero e la rivista e auguro a tutti una buona giornata Grazie